ma mia vanno e lì se vanno Sì, sì, c'è quel fronte lì di barra che mi porta... Madonna se le vanno giù. Lì ha fatto una barra centrale. E non sto vedendo il contesto perché sto facendo... ... con uno giù. Fantastico! Pum, 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 pum. Sì. Bellissimo! Sì, sì. Bellissimo! Bellissimo! Guarda qua! E vedi che vedi cambiare la forma di fondo. Sì, perché dopo un po' che se ne muovono così tanti... Sto incidendo si toglie quella roba centrale. Eh sì, si è formata una roba centrale, va? C'era una roba centrale lì, lo sto togliendo più in piano. Dissection! Sì, si sta raccogliendo perché quando arriva lì si fermano abbastanza. Fantastico! Siamo fortunatissimi! Certo! Siamo arrivati solo il canzello automatico. Beh, c'è questa barrettina qua che... ... in questo momento va in campo. Lì è mossa la lì! Lo vedevo, eh! Sì! 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 Si stanno impaccando lì! Brum, brum! Arriva una roba enorme! Dice! Quello! Razz! Esatto! Bellissimo! Sì! 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 lì sono un significato Torrente Cimoliana, 20 maggio 2010? Sì! 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 E i peboli non sono così piccoli, possono essere alcuni centimetri. 10 centimetri, più grande. E poi... Rolando. Sì, sembrava che... ...che c'è un bar che ora... Il bar sta progressivamente in questo fronte avalanche. Si spiega dal canale a destra. Questo è l'unico posto in cui ho visto un bar con gli occhi. Sevi come cosa accadente? Ho visto il bar che si sta facendo? Io vedo il bar che si sta facendo. Sì, sì. Sì, sì. con la velocità di water 2 metri per seconda è molto ma credo che questo è circa 2 metri per seconda sì almeno posso prendere il radar e prendere la visione e posso farlo sì sì perché non ancora io mi mi la noi mi scolla non ma sì ne no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.